Io credo fermamente nel progresso, tema di questo TED. Pensate all'evoluzione, che è il tema di cui mi occupo io, l'evoluzione dei viventi. Pensate che magnifica storia di progresso in 3 miliardi e mezzo di anni ci ha portato dall'ameba a Donald Trump. Se non è progresso questo, giusto? Allora io vorrei ragionare un po' con voi, è progresso naturalmente, però vorrei ragionare un po' con voi sulle ambivalenze del progresso, perché io ci credo molto, ma insomma dobbiamo valutarlo in tutti i suoi aspetti. Questo signore qua è un mio collega, bravissimo, Steven Pinker si chiama, leggete i suoi libri, sono molto ben scritti, molto interessanti. È uno scienziato cognitivo, un evoluzionista anche lui, ha scritto libri importanti sull'evoluzione del linguaggio in particolare, però da qualche anno a questa parte è impegnato in una campagna culturale, filosofica, civile oserei dire. Vedete il titolo di questo libro, dobbiamo tornare all'illuminismo, ai valori dell'illuminismo e Dio sa quanto sia davvero importante tornare all'idea di uno spirito critico, dell'esercizio del dubbio e soprattutto ci tiene a ribadire Steven Pinker, torniamo a fare riferimento ai dati, alle evidenze che devono essere il punto di partenza per ogni ragionamento e le evidenze che lui racconta nei suoi libri sono alcune come queste, per esempio guardate qua, i tassi di mortalità infantile negli ultimi due millenni, quanto sono crollati, quanto sono diminuiti e questo è un dato oggettivo, è un segno di progresso, oppure guardate l'aspettativa di vita, come si è evoluta nel corso del tempo dal 1800, 1950 e poi fino a pochi anni fa, anche qui abbiamo avuto un progresso straordinario e mappe di questo tipo potremmo vederle per l'accesso all'acqua e molti altri parametri fondamentali e questo naturalmente è vero, non c'è alcun dubbio e fa molto bene Pinker a sottolineare questo, perché noi nasciamo dentro una generazione, nativi di una generazione e tendiamo a dare per scontato quali sono state le conquiste di chi ci ha preceduto, il fatto che si moriva in modo terribile senza anestesia o senza antibiotici fino a un secolo o un secolo e mezzo fa, questo è oggettivo, ma è sufficiente questo per stare sicuri che siamo dentro una traiettoria di progresso? Se voi andate a guardare sempre i dati di Pinker, le persone ne sono degli altri per esempio, noi consideriamo da un punto di vista evolutivo anche la crescita della popolazione un segno di progresso, naturalmente da un punto di vista strettamente darwiniano lo è, il successo popolazionale è un segno di progresso e di successo, vuol dire che siamo stati più bravi ad acquisire e a consumare le risorse, altro valore che viene sempre considerato come tra i fattori positivi di questo progresso. Naturalmente però già lo vedete anche da come è squilibrata questa crescita, potrebbe esserci qualche problema, se per esempio la Nigeria tra qualche anno avrà più di due terzi della popolazione di tutta l'Europa, di tutti i paesi dell'Unione Europea, giusto? Quindi dobbiamo stare attenti a capire bene che cosa c'è dentro, c'è questi dati. Oppure guardate quest'altro dato che potremmo affiancarlo, questo è il bellissimo report di Oxfram che è uscito qualche mese fa sul tema delle diseguaglianze. Certo ha ragione Pinker, stiamo progredendo, abbiamo fatto dei passi da giganti nell'ultimo secolo e mezzo, però non per tutti, non è arrivato a tutti questo. Guardate come stanno crescendo le diseguaglianze a livello globale, guardate il numero delle persone, erano 42 nel 17, sono diventate 26 nel 18 che possiedono la stessa ricchezza di 3 miliardi e mezzo delle persone più povere. Oppure guardate Jeff Bezos che da solo ha come suo patrimonio l'equivalente dell'1 per cento del budget, il budget per la salute dell'Etiopia è l'1 per cento di tutta la ricchezza di Jeff Bezos, basterebbe un gesto di Betjevo per cambiare completamente i destini dell'Etiopia. Ci piace un mondo così? Mica tanto, eppure è un mondo che progredisce, però progredisce in modo disuguale, in modo sbilanciato. E allora noi che siamo evoluzionisti dobbiamo sempre analizzare, quando c'è una tendenza, un trend, che cosa c'è dentro. Quindi Pinker ha ragione, però questo è un progresso innanzitutto sbilanciato, è un progresso ambivalente ed è un progresso che non è per tutti. E poi, aggiungerei anche, è un progresso che ha degli effetti collaterali, ce ne sono tanti, si parla tanto di climate change ovviamente, di crisi ambientale, anche qui qualche dato secco, tanto per farvi capire. Secondo Nature e Science, che non sono esattamente due riviste di militanza ecologista radicale, ma sono le due più importanti riviste scientifiche al mondo, ormai Homo sapiens ha distrutto, ha fatto fuori, dipende dai gruppi che prendete in considerazione, dal 35 al 40 per cento di tutti gli altri esseri viventi. Cioè una sola specie da sola ha fatto fuori più di un terzo di tutte le altre. Non era mai successo nell'evoluzione. E questa è una pessima idea, anche da un punto di vista evoluzionistico. Per esempio, se calano gli insetti, una parte preponderante delle culture nel mondo dipendono direttamente o indirettamente dagli insetti impollinatori, stiamo facendo qualcosa che va anche contro i nostri interessi. Oppure guardate il tema delle plastiche, delle microplastiche, anche all'Università di Padova ci stiamo lavorando, stiamo cercando di quantificarle, tutti parliamo delle plastiche macroscopiche, la famosa isola che c'è nel Pacifico, migliaia di chilometri di plastica che galleggia. Certo, quella è una cosa orrenda, terribile, però quella la vediamo di plastica. In realtà, quella di cui dobbiamo preoccuparci di più è quella che anche noi scienziati abbiamo sottovalutato troppo a lungo, sono le microplastiche, piccolissime, quelle di sotto di un terzo di millimetro, che stanno impregnando tutti i mari, tutti gli oceani del mondo. Il fiume Po in Italia, dalla pianura padana, ne riversa migliaia di tonnellate costantemente nell'Adriatico. Hanno impregnato addirittura gli abissi oceanici, le microplastiche e noi, eppure, tre secoli fa, ci siamo dati il nome di Homo sapiens. Come diceva Oscar Wilde, participio, mai participio, fu dato in modo così frettoloso. E certo, era un po' pessimista lui, d'accordo. Però, provate a pensare, le microplastiche si infiltrano in tutti gli animali, in quasi la metà dei cetacei in tutto il mondo ci sono microplastiche e in quasi un terzo dei pesci, compresi quelli che noi ci mangiamo e andiamo a comprare al mercato. Quindi noi gettiamo la spazzatura, ci laviamo i tessuti sintetici, il pile, le lavatrici, buttano queste fibre di microplastica nell'acqua e poi ci mangiamo la nostra spazzatura. Homo sapiens, un uomo che fa la spazzatura, la butta in mare e poi se la mangia. Pensate che la Enlen MacArthur Foundation, che è la più importante fondazione internazionale che finanza ricerche sulla plastica, ha fatto un calcolo che io continuo adesso a non crederci, ma andate a guardare il calcolo che hanno fatto e non fa una piega. Se noi andiamo avanti così e di anno in anno continuiamo a pescare pesce come stiamo facendo adesso in modo indiscriminato in molte parti del mondo e in compenso buttiamo dentro plastica e microplastica, entro il 2050 e come massa ci sarà più plastica che pesce nei mari della Terra. Più plastica che pesci nei mari della Terra nel 2050. Homo sapiens, ok? C'è un problema evidentemente qua, no? Che dobbiamo considerare. Noi siamo evoluzionisti e lo consideriamo così, senza mai darne una valutazione etica, ma quantomeno inizialmente una valutazione tecnica, scientifica. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che noi esseri umani facciamo da tanto tempo e che ha decretato il nostro successo, non c'è alcun dubbio. Come ha detto una volta un grande evoluzionista, Richard Lewontin, noi siamo quelli che hanno smesso di adattarsi all'ambiente rincorrendo i cambiamenti ambientali. Noi abbiamo inventato un'altra strategia straordinaria, potentissima, che è quella di cambiare noi l'ambiente in modo da renderlo più congeniale alle nostre esigenze. Noi siamo i costruttori della nostra nicchia ecologica e questo ci ha dato un grande successo, una grandissima fortuna. Adesso però c'è un problema e cominciamo ad accorgercene. Ed è un'altra di quelle insidie che stanno dentro il concetto di progresso, che ripeto io non metto in discussione, ci credo, sono ottimista come voi, ma dentro quel concetto di progresso bisogna essere un po' attenti, bisogna relativizzarlo, dargli un contesto. Cosa sta succedendo con il climate change e tutti gli esempi che conoscete bene? Sta succedendo che adesso noi dobbiamo, anzi scusate, i miei figli e i miei nipoti dovranno adattarsi ai cambiamenti ambientali che io ho introdotto nella mia generazione. Avete visto nei dibattiti internazionali sul clima, una volta la parola chiave era mitigazione, giusto? Cioè eravamo ottimisti, mitighiamo, rallentiamo, creiamo un sollievo a questo riscaldamento climatico. Adesso sono diventate due le parole d'ordine fondamentali, mitigazione e adattamento. Cioè ormai è già successo, dobbiamo adattarci, dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo cercare di vivere in un mondo che cambierà a causa della nostra costruzione di nicchia. Lo fanno anche altre specie, lo fanno anche i castori, questa è una bellissima, vedete, una diga del castolo. Il castolo cosa fa? Fa la stessa cosa, costruisce un artefatto molto bello che è funzionale per lui, per la sua riproduzione, per la sua sopravvivenza e così facendo cambia il mondo. Perché per esempio crea un lago, crea acqua ferma, stagnante, che diventa un ambiente per altre specie, cambia il mondo, lo cambia per renderlo più consono a noi. Ecco noi siamo castori andati un po' fuori controllo, ok? Noi siamo dei castori che si sono fatti un po' prendere la mano, diciamo. E quindi climate change per noi evoluzionisti che cos'è? È un grande esperimento evolutivo, so che può sembrare cinico ma è così, è un grande esperimento evolutivo su larga scala, globale, che sta cambiando il mondo, favorirà qualche specie, invece sarà a sfavore di molte altre specie che già adesso si stanno estinguendo a causa del cambiamento climatico, ma noi, noi, noi possiamo salvare davvero il pianeta? Il pianeta si salva da solo, no? Ovviamente. Noi che cosa possiamo capire qua? Se siamo lungimiranti, se siamo intelligenti? Che questo pianeta lo stiamo cambiando in modo talmente veloce, talmente rapido e talmente miope che rischiamo di pagarne caramente le conseguenze, rischiamo di pagarne cara. Se gli ecosistemi non sono più così generosi con noi in termini di fertilità, avete presente, no? Desertificazione, tutti i problemi connessi al climate change e in termini di ciclo dell'acqua e così via, noi dovremmo pagare quei servizi ecosistemici, diventeranno più rari e gli economisti sanno che quando qualcosa diventa raro lo devi pagare, quindi potrebbe essere quella che viene chiamata una trappola evolutiva. C'è qualche elemento di speranza? Sì, in realtà, perché, vedete, questo è uno schema un po' astratto per dire la stessa cosa, noi cambiamo il mondo e dobbiamo adattarci ai cambiamenti che noi stessi abbiamo introdotto. E quindi cosa vuol dire? Che quando io ho dei figli, io ne ho tre, che hanno presso poco l'età di Greta Thunberg o poco meno, che cosa sto passando ai miei figli? Sto passando i miei geni, quelli li ho già passati, insieme con quelli di mia moglie, naturalmente, gli passo delle idee, gli passo la cultura, gli passo le mie invenzioni, quindi la trasmissione culturale, ma gli sto passando anche i cambiamenti ambientali che io ho introdotto nella mia generazione e che loro si ritrovano, loro sono i nativi climatici, quindi i nativi climatici, io spero, avranno anche una mentalità diversa e un'inventiva diversa per poter venirne fuori, perché ci sono nati dentro, ma questa è solo una speranza. Ripeto, da evoluzionisti è sempre bene ricordare che questa è una vecchia storia, noi siamo una specie molto giovane, abbiamo soltanto 200.000 anni e ce li siamo giocati abbastanza bene, è stata una tumultuosa, meravigliosa evoluzione, abbiamo soltanto 200.000 anni, ci sono state soltanto finora 8.000 generazioni umane e basta, io nella mia storia evolutiva se vado indietro ho 4.000 nonni e basta, poi è finita la storia umana, quindi siamo una specie giovanissima, ma anche molto ambivalente. Vi faccio un esempio, questa è la mappa delle grandi immigrazioni umane, no? Noi siamo una specie giovane, africana, uscita dall'Africa più volte, l'ultima volta 60.000 anni fa, tutti noi, siamo tutti discendenti da un piccolo gruppo di africani, circa 60-70.000 persone, tutti noi, 7 miliardi e mezzo, che sono usciti dall'Africa quella volta lì. Quando sono usciti dall'Africa cosa hanno fatto? I nostri pionieri antenati, hanno fatto cose meravigliose, cose bellissime. Noi oggi abbiamo scoperto che le pitture rupestri non sono nati in Europa, ma sono state fatte prima, queste vengono da Sulawesi in Indonesia e quindi vuol dire che già questi primi migranti pionieri che hanno fondato la specie umana erano capaci di queste cose meravigliose. Ma nello stesso tempo gli stessi gruppi potevano vivere non soltanto ai tropici all'equatore, ma guardate questo mammut che è stato cacciato nell'Artico a meno 22 gradi sotto zero, in un'epoca antichissima, 45.000 anni fa, cioè i cacciatori africani, questi qua erano di colore, immaginatevi dei masai di oggi, vivevano a meno 20 gradi sotto zero e cacciavano i mammut. Chi diavolo glielo faceva fare? L'unica specie al mondo capace di fare queste cose siamo noi, nessun altro animale vivrebbe in Africa, poi parte e va a vivere a meno 20 gradi sotto zero mangiando mammut. C'è qualcosa di profondamente radicato nella natura umana, in questa ambivalenza, no? Siamo molto creativi e molto distruttivi, facciamo quella cosa che avete visto prima, arte rupestre meravigliosa, ma siamo anche capaci di grandi capacità di coordinamento e di organizzazione per cacciare il mammut. E quindi una grande domanda che resta ancora aperta, vedete questo è il cespuglio dell'evoluzione umana, guardate quante specie umane ci sono state sulla Terra, tantissime, noi siamo l'ultimo ramoscello là in alto e siamo rimasti da soli perché abbiamo contribuito all'estinzione di tutte le altre specie umane. Questo non è tanto progresso, no? Eliminare tutti quelli che ti assomigliano, però noi siamo anche questa cosa qua, siamo una specie ambivalente. Io qualche anno fa, per scherzo, a un congresso internazionale ho proposto a Lisbona, ma giuro scherzavo, ho detto scusate voi che vi occupate di conservazione, avete detto che ci sono le specie in via di estinzione, le specie minacciate, introduciamo un'altra categoria, la specie self-endanger, quelle che si sono messe nei guai da sole o che rischiano di mettersi nei guai da sole e ci sono due candidati, Homo sapiens, per le ragioni che vi ho detto, e poi c'è l'alce irlandese, che è il megaloccero, che non era un alce, non era irlandese, ma adesso non posso farla lunga, che ha contribuito alla sua estinzione con queste corna eccessive. Solo che c'è una differenza, l'alce irlandese non si è accorta che si stava estinguendo, noi invece abbiamo tutti gli strumenti per accorgerci che possiamo esserci infilati in una trappola evolutiva e che quindi sarebbe bene uscirne il prima possibile. E adesso, il che è preoccupante, stanno discutendo se davvero introdurre questa categoria, ma io stavo scherzando e invece evidentemente bisogna essere preoccupati. Quindi io sono molto d'accordo con voi, 60% di ottimisti, 30% di incerti, 8% di pessimisti. Bene, dobbiamo essere ottimisti, citando Andrea Camilleri, però con beneficio di inventario e quindi capisco anche il 30% degli incerti e quindi sono molto d'accordo con l'esito della vostra votazione e vi ringrazio.